Ha riacquistato la vista dopo circa cinque anni di buio Anna Maria De Luca, 66 anni di Ariccia, un intervento effettuato con una tecnica denominata cheratoprotesi, ovvero l'installazione di una protesi artificiale biologica a lungo termine biointegrabile, capace di risolvere i casi complicati non risolvibili con il trapianto di cornea. L'intervento chirurgico è stato illustrato nel corso di un evento nell'ospedale dei Castelli che vede protagonista il Lazio come eccellenza rispetto ad altri paesi nel mondo grazie all'impegno assunto dalla ASL Roma 6 che pone l'ospedale dei Castelli come punto di riferimento per questo speciale intervento chirurgico. Apprezzato il saluto del professor Vincenzo Campitelli, console onorario d'Italia a Busan, che ha aperto a una futura collaborazione tra medici italiani e della Corea del Sud.